bella a tutti ragazzi oggi sono qua da solo perché con una scusa sono uscito a portare il cane così posso registrare questa intro perché oggi andremo a fare uno scherzo adesi ora lei non è una che si informa non è una che guarda i telegiornali come del resto neanche io però dei due sono quello che si informa un po di più che sa un po più di notizie di attualità e così via quindi adesso andiamo a casa e lei gli sticherò e dopo una mezz'oretta gli farò lo scherzo per il proprio lo scherzo in questione è il fatto che la corea del nord vuole bombardare l'italia vediamo che cosa che come reagirà e niente vediamo cosa succederà bella ragazzi a proposito dire uno si chiede prima ero su per sua letto è capitato ci ha visto in televisione che c'erano le notizie e stavano dicendo che ci sono delle tensioni fra corea del nord e i paesi della nato quindi va bene c'è dentro che italia ma non ho capito cioè le motivazioni ma certo da quello che hanno detto vogliono bombardare con tipo dei missili nucleari l'italia e paesi della nato quindi la spagna l'italia washington tutte quelle cose che c'è tutte queste zone qua ma non penso che non penso sia vero è però non lo so ma non penso che sia vero ma vabbè l'ho detto in televisione quindi non penso che dicano cavolate ma adesso andiamo a vedere tanto mi penso che ci hanno visto non lo so lo tirano stasera al telegiornale molto probabilmente l'italia non si è vero perché le cacchio non ci nascondiamo in sti casi non neanche la cantina bisogna andare in cantina bisogna andare non lo so e sti casi non si va sotto terra così dicono così dicono così dicono ma non lo so vabbè ma tanto adesso sicuramente approfondiremmo le notizie per telegiornale poi vediamo cosa diranno non possono farlo in questi anni dai oramani tempi di guerra dovrebbero essere finiti prima di tutto poi ci sono tutti i fake news per fare un po' di telegiornale eh sai ma sono i cavolate che dicono tra i fans di immagini se è vero mi no ma vanno vabbè adesso non preoccupo attento troppo per l'iniziatore del giornale e vedremo lì le notizie e abbiamo Damiano adesso eh si sbagliando così male che il gioco di video di spot può essere utile si una volta entrando in un negozio rispondendo a un mio stadio ho già potuto non trovare la vetrina Lux� ma proprio adesso non c'è non hai bisogno da nulla beh ma perchè sei casatto c'è non andato mentre c'era E' no ma mentre c'ero in rag Non pare hai hai visto cosa ci dicevo hai visto chiamo 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 hai visto? ma cosa stanno facendo? o no è stato bruttato ma la madre è lì non ho sbagliato mi sembra ci sbagliamo per l'interruzione avremo un importante messaggio da parte del ministero della difesa e della protezione civile ma sono termine si vuole il seguente messaggio viene trasmesso dal ministro della difesa e dalla protezione civile si prega di ascoltare con estrema attenzione questa non è un'esercitazione ripeto questa non è un'esercitazione tutte le trasmissioni sono sospese a tempo indeterminato the following message is sent by the italian minister of defense and civil protection please listen very carefully non mi ch вами this is not a thing i repeat this is not a test all the international space are suspended indefinitely no alle ore 17 e 32 vei quando l'era rego il 2730 ha rilevato molteplici lanci di tecnologia di creare da parte della federazione russa e della Corea del Nord Questi missili si dirigono presso le seguenti città, Londra, Trimbundro, Ambro, Berlino, Washington, New York, Madrid, Barcelona, Milano e Roma. Hai visto? Questi missili sono un bilancio a livello nazionale e il risultato di criticità è estremo. Ma che città c'è qua? Non lo so. Si prega di trovare urgentemente un ritardo e di preparare scopi di cibo. Ma neanche mai scopi di cibo non vuoi? Ma neanche di acqua è. E' proclamata legge marziale e tutti i porti, aeroporti e strade sono state chiuse per utilizzo militare. E i nostri telecampe? No, non sono stati funcati. No, i tuoi si, no. Te l'hanno ripiando. Ma stanno se? E non lo so. Diciamo. E l'abbiamo ben chiamato. Vedi Milano e Roma fra 20 secondi, amore. Che cazzo facciamo? C'è mio mamma. Ma adesso dov'è c'è il cellulare vicino? madonna mettiti la voce che sento anch'io ma non risponde ti dai la mossa vieni che ho messaggio che continua 3,2,1 mamma qua in tv stanno dicendo che c'è un attacco nucleare in tv hanno detto che c'è un attacco nucleare non ci credo oh mi senti qua stanno dicendo che c'è un attacco nucleare no è uno scherzo lascia stare no è uno scherzo che gli sto facendo io ad esempio ma sei scemo ma chi sai che si fanno sti scherzi? no è uno scherzo ma chi sai che si fanno sti scherzi? è uno scherzo che gli sto facendo su youtube ma sei scemo non ti preoccupare no è uno scherzo che gli sto facendo sui scherzi? no è uno scherzo che gli sto facendo sui scherzi? stupido no è uno scherzo che gli ho fatto a desi dai dopo vedrete il video su youtube dai ciao ma io ti mando a quel paese io piedo il divorcio non puoi dare giù no è uno scherzo che gli sto facendo sui scherzi? due infarti tre infarti ah tre infarti fatemi dire anche ai miei genitori l'infarto perché poi l'ho chiamato nel senso nascondetemi fate qualcosa gli volevo dire aspettate ne molti altri anzi non aspettateli così vengono meglio beh qua parte una guerra tramite non guerre guerre puniche grazie